Ragazzi, oggi andiamo a lavorare di nuovo le palle mediche, andiamo a vedere lo Slam Ball a pavimento, è sempre un movimento esclusivo da inserire nemmo single gap. Ci sono due tipi di palle, c'è la classica Slam Ball, questa qua, che non rimbalza, mentre questa qui, la Mad Ball rimbalza, quindi andremo a vedere i due movimenti in maniera differente. Da qua, posizioniamo sempre davanti alla palla, andiamo in squat, raccogliamo la palla sempre in squat, cerchiamo di non guardare per terra, ma sempre leggermente in avanti. Da qua, una volta che prendo la palla, tiro su e vado a caricare in questo modo la palla dietro la testa. Quando faccio questo movimento, carico completamente le gambe indietro, in questo modo. Ok? Faccio questo movimento. Oh! E poi racchiudo il tutto e schiattare la palla al suolo con un movimento esclusivo. E poi racchiudo, carico, qui, carico, 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 carico. Invece con questa bisogna stare molto attenti che rimbalza e che non gli venga in faccia. Per cui, quando siamo in questa posizione, stessa storia, carico, vedete che rimbalza, se vedete la faccia davanti, gli arriva addosso. Per cui, in questa posizione, uno, carico, slancio e riprendo. Carico, slancio e riprendo. Carico, slancio e riprendo. Quando slancio, devo evitare di andare giù col viso. Ok? Devo stare sempre dritto con la schiena. Ancora una volta. Via. 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 Via.